Siamo in Berto Brescia, in Borgo Wurer e oggi è stata una giornata fantastica perché abbiamo avuto l'occasione di coccolare e di accogliere i nostri clienti in occasione della presentazione esclusiva della nostra collezione Outdoor Sounds per cui è una giornata unica dedicata alle coccole, dedicata all'ascolto proprio nella matrice tipica, nell'impronta digitale tipica di Berto che è quella del contatto diretto, quindi a contatto diretto con i nostri clienti tutto il pomeriggio per una giornata straordinaria all'insegna dei nostri clienti.